Musica Posso lasciare questo così? Buongiorno, ben ritrovati, ben ritrovati. Sette in punto, questa mattina parla di musica, perché la musica è stata, diciamolo, l'unica risorsa che anche nel periodo della pandemia ci ha consentito di ritrovare una, chiamiamola, normalità. Questa mattina parliamo di grande musica, perché è di un festival pianistico internazionale che si chiama Bartolomeo Cristofori e che è già andato in scena, nel senso che ha già proposto degli appuntamenti molto interessanti, ma che vivrà il suo clou dal 15 al 19 settembre. È una puntata speciale perché avremo due diversi punti di vista. Cominciamo con quello del nostro primo graditissimo ospite di questa mattina. Si tratta di Gian Paolo Pinton, che è presidente dell'Associazione Bartolomeo Cristofori. Buongiorno a lei, presidente. Buongiorno a lei e grazie dell'invito. Grazie a lei di essere con noi. Lei però è presidente dell'Associazione Bartolomeo Cristofori e degli Amici del Conservatorio. Amici del Conservatorio. Linetta, Amici del Conservatorio. Perché? La domanda retorica, ma perché questa associazione è nata qualche anno fa per merito di chi? Di alcuni appassionati di musica e del direttore del conservatorio di allora, che era il maestro Leopoldo Almerlini, un grandissimo personaggio, che adesso fa parte del nostro consiglio direttivo perché la sua esperienza, la sua saggenza non si può perdere. Presidente, senta, io forse abbiamo usato un termine in più, abbiamo dato del Festival Pianistico Internazionale, ma forse non ne ho abusato come termine. L'obiettivo è questo, Festival Pianistico Internazionale. Diciamo che l'internazionalità può avere due tipi di interpretazione. La prima è in realtà se sei in un circuito internazionale e per avere questo ci vuole tempo, ci vuole umiltà e bisogna affermarsi, ci vuole qualche anno in più della nostra storia. In realtà noi dopo l'anno zero siamo arrivati al quarto anno, siamo ancora giovani, ma soprattutto noi siamo piccoli. Un'associazione piccola dà il grande nome, il Bartolomeo Cristofori, il grande padovano, inventore del pianoforte. La seconda interpretazione internazionale è il livello degli artisti e qui ci siamo, perché molto spesso, anzi, in quasi tutte le edizioni abbiamo avuto dei grandi nomi. Naturalmente i grandi nomi sono condizionati a cosa? Ai cachet, come i calciatori, no? Ecco, allora noi siamo, come dicevo, un'associazione che vive di un budget sostenuto da sponsor, sponsor privati, i quali sono sostanzialmente imprenditori illuminati. Poi abbiamo la fortuna a Padova di avere una fonte, diciamo, di finanziamento, di sostegno, di supporto molto importante, condotta da manager illuminati che è la Fondazione Cariparo. Naturalmente sono cambiati i tempi anche nella Fondazione, non c'è più il contributo a pioggia come una volta, ammesso che ci fosse o perlomeno presenti un progetto, ti do un contributo. Non è così, ci sono dei bandi, dei bandi che è giusto che, come dire, le associazioni si adeguino, imparino a studiare, imparino a presentare i documenti come fosse una piccola impresa. Un festival è una piccola impresa, quindi ci vuole un budget, le entrate, le uscite, la gestione, la comunicazione, l'amministrazione e noi siamo tutti volontari, tutti volontari che amministrano questo tipo di progetto. E quando diciamo volontari, ovviamente diciamo persone che offrono le loro prestazioni gratuitamente. Certamente è la passione che vi anima e in quello vi comprendiamo pienamente. Presidente, magari se lei fa una piccola inchiesta in giro per Padova, magari poche persone le sanno rispondere, sì, Bartolomeo Cristofori, colui che ha scoperto il forte piano, progenitore del pianoforte, pochi, crediamo, lo sappiamo. Perfetto. Adesso vi racconto un aneddoto velocissimo. Io ho fatto un piccolo, quelli che si chiamano tecnicamente, io appartengo a questo mondo del marketing, della ricerca di mercato, si chiama Focus Group. Quindi lei fa delle velocissime interviste a un certo numero di persone e quelle sono abbastanza rappresentative di un numero più elevato. Allora, diciamo, il mio numero erano 20, 18 non sapevano chi fosse Bartolomeo Cristofori, una ha detto chi era e un'altra mi ha detto una via. È già qualcosa. No, indubbiamente. Certo, è una percentuale comunque preoccupante. Insomma, una volta per tutte, chissà che magari Bartolomeo Cristofori non diventi, non diciamo una celebrità, ma perlomeno un cittadino riconosciuto anche dai suoi stessi concittadini, ci scusi il gioco di parole, insomma, che i padovani sappiano di questo grande personaggio. Avete soltanto pochi anni di vita, ma come è nata l'idea di creare un festival pianistico intitolato Bartolomeo Cristofori? Proprio per far conoscere Bartolomeo Cristofori ad un pubblico più vasto, proprio per portare alla nostra bellissima città, che io paragono sempre a uno scriglio di gemme diverse, perché Padova è una città straordinaria, con innocenti riconoscimenti anche dell'UNESCO, quindi l'arte, abbiamo la fucina del sapere che è l'università dal 1222, abbiamo Pedrocchi, abbiamo i musei, abbiamo il prato della valle, abbiamo le chiese, abbiamo il santo, il luomo. È straordinario, però un brand, come si chiamano adesso, i brand musicali, non ne avevamo uno. Avevamo Giotto, che non è un padovano, avevamo Galileo, che non è un padovano, e molti altri nomi che ci possono associare a Padova, ma non sono padovani. L'unico padovano doc, che è conosciuto e amato in tutto il mondo, nato nel 1622, il 4 maggio, nella chiesetta di San Luca, in via 20 settembre, è Bartolomeo Cristofori. E questo ci dà una grande forza interiore di cercare di far sì che Padova entri nel circuito internazionale dei appuntamenti musicali belli, attesi, visitati, perché oltre ad essere una città d'arte, è chiaro che è una delle muse della musica, no? Ecco, ma oltre ad essere una città d'arte, diciamo l'arte figurativa, come si immagina solitamente, può essere anche una grande città per gli incontri musicali. Il nostro conservatorio è uno dei più importanti conservatori d'Italia, al quale noi abbiamo voluto fare un piccolo omaggio. Non c'era un segno di Bartolomeo Cristofori nella sua città e abbiamo fatto costruire uno scultore di Treviso un basso rilievo in marmo con l'immagine di Bartolomeo Cristofori e quindi è una cosa molto bella. L'ha sponsorizzata in parte la nostra associazione con l'aiuto del Rotary Club Padova Est che ha contribuito e poi abbiamo fatto anche un'altra piccola cosa per visualizzare Bartolomeo Cristofori. Se lei va al Pedrocchi, forse l'ha già visto, nella sala della musica c'è un busto di Bartolomeo Cristofori e sta diventando un angolino cult, come si dice. C'è qualcuno che si fotografa vicino, o si fa fotografare vicino a Bartolomeo Cristofori. Ricordo che la bellissima opera scultore è stata offerta dalla scultrice Lidia Corte, bravissima perché è perfetta il busto di Bartolomeo. Per cui insomma avete anche, ci scusi, dato offerto un'apertura anche alla creatività femminile perché di scultori si sente parlare, di scultrici un po' meno, voi siete riusciti anche a coinvolgere una figura artistica di questo livello. Presidente però l'aspetto crediamo interessante è che parliamo di un festival pianistico ma voi nell'ambito di questo festival pianistico non parlate solo di musica perché affrontate l'attualità, temi importanti, l'uomo, l'ambiente. Ecco, del programma parlerà il direttore artistico eccetera. Io dico un po' il concept, come si dice, no? E lei lo sa meglio di me e i spettatori anche. La musica è sempre stata una metafora, una tralunione, un link, un collegamento tra concetti importantissimi e le note. Allora ricordo solamente Beethoven con il suo inno, ricordo andando verso la nostra affermazione dello Stato italiano, le musiche di Verdi, le musiche liriche che erano importantissime per creare quell'atmosfera, poi le musiche per i diritti umani, la musica per la libertà, quindi da sempre, diciamo così, la nota è vicino al concetto, al pensiero, alla parola. Grazie anche all'impegno del direttore artistico Alessandro Tommasi, siamo riusciti a portare avanti questo progetto che l'anno scorso aveva uno spazio relativo, ma quest'anno direi si presenta in maniera strutturata perché l'argomento scelto in abbinamento ci ha consentito anche di scrivere il titolo di questo festival, Green New Music, no? Quindi ormai è un po' tutto verde perché i problemi sono talmente elevati e talmente importanti che non si possono trascurare e tutte le occasioni sono buone per parlarne, per sensibilizzare le persone, per far sì che la musica in questa occasione diventi ambasciatrice di rispetto dell'ambiente, di eco-scelte, eco-progetti, eco-avvenimenti, eco-eventi, chiami come vuole. No, ma è il linguaggio universale della musica che ha questa forza, potenza straordinaria di raccogliere tutti insieme persone magari di diverse formazioni, di diverse culture, anche di diverse fedi se vogliamo. Sì, ancora una volta l'hai accentrato, proprio perché la caratteristica del festival è di esplorare le diverse piattaforme musicali che può occupare un pianoforte e se è vero che Bartolomeo Cristofori è diventato l'inventore dello strumento più amato al mondo, si può dire anche che il nostro festival nel suo piccolo, senza nessuna autoconsiderazione, auto-celebrazione, cerca di spaziare dalla musica classica allo jazz, a un'interpretazione magari più dedicata a target particolari, alla musica diciamo del dopo cena, del fine serata, quindi non voglio adesso generalizzare, ma ci sono dei segmenti precisi che sono stati occupati sempre grazie allo strumento di Bartolomeo Cristofori. Ricordo a questo proposito che uno degli obiettivi della nostra associazione, è un sogno nel cassetto, è riuscire a realizzare in collaborazione con tutte le istituzioni padovane, perché da soli non si fa nulla, quindi comune, provincia, la curia, la regione e naturalmente i privati, gli sponsor, magari si può dare una mano anche la fondazione, è restaurare la chiesa di San Luca, via 20 Settembre, creare un museo del pianoforte, pensi che che faro, che flag culturale diventa assieme all'ortobotanico, assieme a Giotto, assieme all'università, assieme a tutte queste cose che possono veramente dire vado a Padova, è una città a 360 gradi nella cultura. I tre pianoforti attribuiti a Bartolomeo Cristofori, ed è vero, sono uno a Lipsia, uno a Roma e uno a New York, chissà, speriamo, non so fra quanto tempo, di poterli portare almeno uno qui e esporli ai nostri cittadini, sarebbe una cosa molto bella. Fantastico, ma in queste località che lei ha citato, New York e Lipsia, fa parte di collezioni private, è all'interno di istituzioni pubbliche, che lei sappia? Che io, quello che so, ma magari Alessandro poi darà la stoccata giusta, credo siano nei musei, in alcuni musei o in alcune, non credo siano, fanno parte di collezioni private. Adesso sentiremo il direttore artistico, che sarà il protagonista della seconda parte di questo nostro intervento. Presidente, sa che il tempo è tiranno, però lei è stato esaustivo in maniera significativa nel descrivere questo appuntamento. Per avere informazioni del Festival Bartolomeo Cristofori, avete anche un sito? Sì, certo, www, ma sono tutti, cristoforipianofestival.it, tutto attaccato, cristoforipianofestival.it, si possono vedere i programmi di tutte le selate, si può avere anche la prenotazione, ci sono le proiezioni di alcuni filmati, la documentazione delle edizioni precedenti e abbiamo un'attività di social piuttosto importante, quindi sempre nel nostro piccolo, con umiltà, ma con professionalità e passione, cerchiamo di dare tutte le informazioni possibili agli appassionati del pianoforte. E che soprattutto vengano muniti di mascherine e green pass. Eh sì, non potevamo non pubblicizzarlo, di fatti, munirsi di mascherine e di green pass e di un po' di pazienza, perché bisogna fare un po' la fila, compilare il modulo, lei lo sa, la tracciabilità, però insomma abbiamo visto che nelle anteprime che abbiamo avuto e devo dire con un certo successo, sia a Padova, ma soprattutto quella di Conegliano, al Chiostro di San Francesco, non c'è stato nervosismo, non c'è stata confusione e sì avevamo quasi 150 persone, insomma, quindi non erano poche. Adesso cominciamo con la prima al Verdi, il 15, per noi è un grande onore, ringrazio pubblicamente il Comune e il Sindaco Giordani e l'Assessore Colasio perché hanno fatto un regalo, cioè ci sentiamo, anzi il festival si sente importante, noi rimaniamo sempre piccoli ma siamo andati al Verdi come inaugurazione. Che non è poco, assolutamente. Noi ringraziamo per questa prima parte della nostra trasmissione di questa mattina Gianpaolo Pinton, Presidente dell'Associazione Bartolomeo Cristofori e Amici del Conservatorio. Grazie a voi. Grazie Presidente, buon lavoro e in bocca al lupo. Grazie mille e vi aspettiamo. Grazie al Presidente del 15 al 19 settembre, rimanete con noi però perché tra poco ci sarà Alessandro Tommasi che è il direttore artistico del Festival Bartolomeo Cristofori. Appuntamento tra pochissimo.